Musica Ciao, come un lampo. Ciao, cuoricino. Agurone, 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 agurone. Buon San Valentino. Eh, mamma mia. Bello, ma tu che hai trovato questo posto così particolare? A mare. Tu vedi? Madonna, mi ho pronotato un anno fa, pensa. Ci devi passare, ci devi passare. Pure io, pure io, questa cena stasera intima in questo ambiente bellissimo. Hai ordinato, no? Vabbè, no, 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 aspettavo te, ma soprattutto aspettavo qualcosa che mi portassi. Che cosa? Come che cosa? Ti ho scritto il messaggino che volevo quel pensierino speciale. No, io, 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 avevo pensato di farti un regalo, però tu mi è stata molto chiara che sia. Bracciali me l'hai comprato o no? E no. Come no? Perché non mi hai comprato i bracciali? Ecco, se tu l'hai detto, scusa, io ho notato anche l'acconto, ho ritratto i soldi. Oh, io ti ho scritto un messaggio. Mi hai scritto niente, mi farebbe piacere più di un bracciale. E allora? E io niente ti ho portato. Se ti farebbe piacere più di un bracciale, scusa. Amor, ti piace uno scherzi a... Io ti ho scritto niente, mi farebbe piacere più di un bracciale. Ma appunto, se ti dici che niente mi farebbe piacere più di un bracciale, allora se ti farebbe più piacere niente ti ho portato niente. E madonna sape, dipende come la legge la frase, niente mi farebbe piacere più di un bracciale. Mi sono messo gli occhiali, ce l'ho letta tranquillo, mi sono messo lì, perché sai che non tanto ci vedo da... Ma ti sembra normale? Sta ancora il messaggio, dove sta? E allora, ma scusa, niente. Mi farebbe piacere più di un bracciale, io ho portato niente. Ma non è come la conti tu, niente mi farebbe piacere più di un bracciale. Scusi, se uno dovesse scrivere niente mi farebbe piacere più di un bracciale, tu che cosa regaleresti? Niente. Ove? E madonna sape! Scusi signora, ma a te sembra normale che una San Valentino si viene con niente? Signora, dall'ospedale vuoi la salute? E mi ci fa? Chiediamo a voi che siete a casa, se una dovesse scrivere niente mi farebbe piacere più di un bracciale, voi che cosa regalereste? Eh?